buongiorno o buonasera rieccoci i podcast di allora di amadeus non dimenticate di commentare mettere mi piace e iscrivervi a tutti i nostri canali li troverete nella descrizione insieme anche all'indirizzo se presente del podcast oggi riparleremo con corrado vradini scusa di frank zappa frank zappa è un argomento che a noi intriga e corrado vradini scusa è la persona giusta al posto giusto per parlare di frank zappa non vi anticipo quello di cui parlerà corrado ma semplicemente ascoltate e godetevi il nostro podcast 1 2 3 avanti tutta corrado tre suggerimenti musicali proposti da frank zappa con parentesi viennese fra gli innumerevoli suggerimenti musicali di frank zappa che possiamo carpire spulciando dichiarazioni copertine libretti frani musicali scritti e interviste rilasciate nel corso del tempo ne propongo tre di eterogeneo contenuto e caratura nel corso del tempo sono passato da una fruizione abbastanza superficiale della musica di frank zappa parlo di quando avevo circa 17 18 anni ad una voglia crescente di approfondire motivazioni e origini di quello che mi appariva sempre più come una specie di grande calderone nel quale sobollivano esempi stili e rimandi una bizzarra e divertente enciclopedia del sonoro mondiale sempre più mi accorgevo di citazioni di questo artista da musiche e culture che fino ad allora da semplice seguacce del rock non avevo preso in considerazione faccio qualche esempio il brano transilvania bughi da chugas revenge del 70 che richiamava il mondo della musica slava ungherese e sinti oppure il brano aukudelbisa chafur da freak out del 1966 che nelle note di copertina affermava di applicare un ritmo modificato di nanigo che dopo qualche ricerca risultava essere un ritmo in tre quarti delle tribù yoruba della nigeria per non parlare delle sue citazioni di musica classica contemporanea quando ero giovane la consideravo una specie di cacofonia frequentata da persone snob e intellettualoidi poi invece ho capito essere l'ultima frontiera della ricerca sul suono sulle possibilità degli strumenti musicali e molto molto alto perseguendo questi ed innumerevoli altri stimoli ho arricchito la mia percezione e conoscenza del suono inteso come bagaglio ereditario mondiale divertendomi e studiando da autodidatta prendendo ed approfondendo di volta in volta le direzioni che ritenevo più opportune e gratificanti quindi adottando frenzappa come maestro di cerimonie mi sono ritrovato per il mio piacere ad approfondire svariati argomenti sono contento di condividerne qui qualcuno con chi mi ascolta nel 1992 mi trovavo a vienna avevo in tasca i biglietti per il concerto dell'ensemble moderno ultimo concerto dopo quelli di francoforte berlino di quella che si è purtroppo rivelata l'ultima bellissima opera di frenzappa the yellow shark ospite di amici che vivevano in loco avevamo girellato per la città non erano ancora i tempi di internet che ha poi facilitato qualunque ricerca e qualunque curiosità per approfondire qualunque argomento si dovevano sfogliare enciclopedie o affidarsi ad esperti dei vari settori ero a vienna tempio della musica ero sicuro che qui avrei trovato risposta a qualche mia curiosità anni prima tra i nomi citati da frenzappa all'interno della copertina del suo primo disco con le modus of invention freak out del 1966 avevo notato quello di alois abba ma fino a quel momento le notizie sul conto di questo personaggio erano state veramente scarne cecoslovacco insegnante e compositore di musica quartitonale ero così alla ricerca di qualche incisione qualche libello biografico anche qualche spartito benché io non sia poi così fantastico nella lettura musicale e di uno spartito quartitonale poi il titolare del più rinomato negozio della città alla nostra richiesta e mi avvalevo qui della lingua tedesca parlata dal mio amico ci ha guardati come fossimo marziani e ha chiesto chi fossi io per fare una richiesta del genere supponendo credo dovessi essere un capriccioso melomane in cerca di impossibili chicche per metterli in imbarazzo durante lo svolgimento del loro significativo lavoro sembravano quasi offesi forse pensavano non potevo modestamente chiedere qualcosa di mozart del quale avevano sicuramente tutto e quindi delusione niente da fare apro qui una parentesi al concerto ultimo della serie con l'ensemble moderne zappa non aveva poi presenziato era rientrato anzitempo negli stati uniti per il riacutizzarsi del suo male che di lì a poco lo avrebbe sopraffatto ricordo però una sua telefonata indiretta diffusa nel teatro durante lo spettacolo che mi aveva sinceramente commosso mi piacerebbe tanto risentirla ma nessuno a quanto pare ha mai sentito il dovere di pubblicarla erano le ultime parole di zappa al suo pubblico di entusiasti fedelissimi mi dilungo ancora un po per dire che il concerto era stato indimenticabile anche per la precisione del suono di quest'orchestra magnificato dallo sperimentale ed avvolgente impianto sonoro e dal balletto acrobatico sulla musica di g-spot tornado il giorno prima il critico di un giornale locale aveva stroncato le precedenti esibizioni a francoforte berlino tutti i gusti sono gusti il mondo della musica accolta è stato sempre molto resti ad accogliere nuovi membri nel suo entourage essere mal giudicati è successo ai più grandi bene chiudo la parentesi l'anno seguente mi trovavo in auto durante un lungo viaggio autostradale accendo la radio e vengo avvolto da una musica orchestrale straniante insolitissima che risveglie immediatamente il mio interesse affascinante indefinibile aspetto con ansia che mi si dica cosa sto ascoltando ed eccolo la aloi saba in una delle sue opere più famose la matca la madre del 1931 è stato come aver trovato una pepita d'oro in seguito con l'avvento di internet mi sono tolto ogni curiosità sull'argomento e lo potete fare anche voi ma quello è stato un momento di scoperta irripetibile aloi saba insegnante compositore di musica quartitonale ideatore di pianoforti e organi per l'esecuzione della musica quartitonale la sua ricerca si è spinta sino alla musica sestitonale per violino violoncello quartetto d'archi harmonium teorizzatore e creatore di un suono decisamente inusuale per noi abituati al sistema di accordatura della scala musicale in 12 note che domina la musica del mondo occidentale immagino una futura evoluzione umana nella quale si possa aggiungere a godere del suono in ogni sua gamma ed espressione e questo pioniere ci mostra il cammino se cogliamo un altro suggerimento seminascosto di friend zappa possiamo fare la conoscenza di un altro pioniere di alto livello l'ultimo brano del disco live del 1981 tinsel town rebellion si intitola pitching street e nella discografia ufficiale è cronologicamente la terza versione registrata di piccio san regalia la prima la troviamo su hot rest del 70 e la seconda su film morist del 70 al termine di questo brano prima della presentazione al pubblico dei musicisti per l'applauso finale e ringraziamenti friend zappa pronuncia delle frasi abbastanza sibilline signori e signori vi prego di mostrare il vostro entusiasmo per un altro grande italiano e qui presenta all'applauso i nomi di quattro personaggi nell'ordine con lo nan carrow warren cucurullo al di meola al ving li di questi l'unico presente quando vengono declamati questi nomi è warren cucurullo che era il chitarrista della band e che aveva dichiaratissime origini italiane al di meola non è presente di lui viene imitato per pochi secondi lo stile chitarristico e anche di lui le origini italiane sono inconfuttabili anche al ving li leader dei tenias after non è presente anche di lui viene imitato per pochi secondi lo stile chitarristico nato a nottingham nel 1944 sembra molto inglese e per niente italiano questo vale anche per l'americano conlon nan carrow nato a texarcana il 27 ottobre 1912 che non sembra avere nessun nascendente italiano ma al di là di questi scherzetti illogici che tanto sembrano divertirlo renzappa così casualmente e di sfuggita ci presenta semplicemente nominandolo questo compositore americano che ostracizzato in patria per aver combattuto come volontario con i repubblicani nella guerra di spagna si è auto esiliato in messico non riuscendo a far eseguire la sua musica passò a comporre per pianola meccanica producendo musica molto più complicata di quella che si può eseguire manualmente nan carrow si ritrovò a bucare lui stesso i rulli da pianola in un processo artigianale laboriosissimo e ponendo le basi di una musica apparentemente ineseguibile da musicisti un po quello che zappa stesso farà dal momento in cui acquisirà il sync clavier versione lo possiamo considerare una versione digitale computerizzata della pianola meccanica l'ensemble modern dopo aver dimostrato di saper eseguire la impossibile musica composta da zappa con il sync clavier nel 1993 pubblica un cd intitolato studies con le musiche di esecuzione ugualmente impossibile di con lo dan carrow ma meritano l'ascolto anche precedenti cd registrati con il solo originale ausilio della pianola meccanica di quest'altro pioniere possiamo così ascoltare il percorso musicale supportato dai valenti musicisti che gli rendono considerazione e un matto con il terzo suggerimento che vi propongo il nostro anfitrione ci fa viaggiare in tutt'altra direzione solcando i mari su una via a vela questo suggerimento lo estrapoliamo dalle note sul libretto del cd del 1996 the lost episodes frinzappa dice che quando tutti ascoltavano i cream la band inglese del 1967 formata da jack bruce harry clapton e ginger baker lui ascoltava ewan mccall e albert lancaster lloyd questi erano due cantanti di musica folk inglese e collezionisti di canzoni popolari figure di punta del revival folk britannico degli anni 50 e 60 il disco in questione è blow boys blow di mccall e lloyd del 1958 poi riedito nel 1967 mono etichetta tradition il genere musicale prende il bel nome di sea shantys che può essere tradotto perdendo il fascino del titolo originale canti marinareschi questi due interpreti cercavano di riprodurre con l'orchestrazione originale i canti delle ciurme inglesi spesso utilizzati per dare un ritmo e così facilitare i durissimi lavori che si sono canzoni dei tempi in cui le navi erano mosse da bianche vele corde di canapa e forza brutta zappa dice che ne apprezza le belle melodie e i testi che giudica fantastici dice anche che apprezza particolarmente le liriche di the handsome cabin boy il mozzo grazioso e ne riassume concisamente il testo una ragazza si imbarca come mozzo travestita da ragazzo e si ritroverà incinta il nonplengo originale è stato ristampato su cd nel 1996 e il cd contiene le note di copertina originali veniamo così a sapere che all'epoca tra le ciurme la fantasia sulla ragazza che si imbarca travestita da mozzo per seguire un suo amore appassionato e che viene poi scoperta quando l'avanzare della sua gravidanza non è più occultabile era molto comune e che i marinai la trovavano straordinariamente comica anche gli altri brani le note di copertina che li accompagnano sono molto interessanti ricordi di un rude tempo passato in cui il canto aveva forza coesiva e sociale proprio come nelle famigerate piantagioni di cotone del sud degli stati uniti per la storia diciamo ancora che questo stravagante brano viene proposto nella discografia zapiana in tre versioni strumentali la prima in ordine cronologico di registrazione nel 1964 e dal vivo in uno dei tanti bar di los angeles ed intorni dove al tempo si esibivano le mothers originali abbinata ad un folk song americano in un indissolubile medley e compare sul cd joe's corsage questa registrazione noterete contraddice la dichiarazione iniziale di frenzappa questi canti lui li ascoltava già da prima la seconda versione viene registrata agli apostolic studios di new york nel 1967 e compare sul cd the lost episodes la terza registrazione avviene durante le sessioni del monumentale album uncle meet del 1969 e compare sul cd misteri d per curiosità se ne possono ascoltare anche differenti moderne versioni vocali da jerry garcia dei grateful dead in coppia con david griezmann e da frenzappa contengono delle citazioni di musiche di altri autori ognuna di queste citazioni può essere considerata un suggerimento all'approfondimento e i motivi possono essere più svariati che la sua sia pura ammirazione per esempio per varez stravinsky il blues il duo oppure di leggio verso peter franton per esempio per il suo pezzo a emmy new o per boy george per il brano a il tumble for you per santana di cui si prende gioco intitolando un suo brano de carlo santana secret chord progression oppure il texas medley recitato su musica dei beatles ci sono comunque stimoli per concepire fino in fondo la conceptual continuity cioè la continuità concettuale che rende frenzappa godibilmente e meravigliosamente enciclopedico grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti